Il consigliere provinciale Filippo De Gasperi del Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi ha scritto un'interrogazione sull'area ex Cattoi di Riva. La domanda rivolta al presidente del Consiglio provinciale è se esiste la possibilità che un professionista incaricato di redigere uno strumento di pianificazione territoriale possa anche assumere sul medesimo territorio pubblico un incarico di progettazione da un privato. L'architetto Cecchetto, che nel 2012 aveva firmato lo studio preliminare per il piano territoriale di comunità dell'area ex Cattoi, ha redatto ora il progetto dei privati che hanno acquistato la stessa area. Inoltre De Gasperi chiede, come abbia valutato il presunto diritto della società proprietaria, di realizzare volumetrie almeno pari a quelle del piano attuativo in scadenza e a quali norme urbanistiche la società possa legittimamente fare appello per dimostrare la fondatezza delle proprie richieste.